prima ancora di caricare di cominciare a caricare il vocalotto da mezz'ora dove ne dico di ogni zompo da un discorso all'altro salto, riprendo poi mi scordo sicuramente di portare avanti qualcosa già accennato ma tanto chi è abituato ormai è abituato avete capito che non ci faccio ma ci sono proprio ci sono, io ci sono voi ci siete? ecco, bene, eccoci qua allora molti ormai sapranno che qua stiamo aspettando due gemelline divento prozia siamo tutti all'opera in casa e questa è la lana che dovrò spedire alla nonna che vuol fare copertine su copertine, giacchini, scarpine e mi sta rubando tutto quello che c'ho in casa perché poi gliene ha ordinato l'amica del mercato ha colpito preparatevi che come ci riaprono le frontiere con la Toscana ce le porta no, perché ormai è tradizione che ci si trovi a casa mia tradizione cominciata la volta scorsa ma abbiamo intenzione di portarla avanti e quindi si banchetta a casa mia si tirano fuori le rocche di una e dell'altra quelle che a distanza Eleonora ci ha acquistate fotografando chiedendo trattando troppo divertente e quindi poi vedrete ma e quindi ne ho prese alla bisnonna Viterbo ho detto venerdì no, domani vado a Viterbo con Camilla che vado a ritirare un mio libro cucito dal professor Mascagna che tanto che voglio andarmelo a prendere e poi quando vado a Viterbo siamo di corsa con la Camilla e invece domani mi ha promesso insomma che ci andiamo di mattina con tutte le nostre calme e così poi vi parlo di questo libro cucito e vado a prendere dei filati per la bisnonna e ne servono pure a me perché voglio un colore spero di trovarlo voglio un cotone spero di trovare anche quello fatto come dico io perché voglio farmi una borsa nuova ah 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 sì o voglio farmi una borsa mi manca ah io ho una pizzicata sulle orecchie insomma ah che poi ho iniziato nell'altro boccaletto lo dico qua insomma io mi sono intossicata con le ortiche mi sono talmente massacrata nonostante i guanti ma avevo quelli di lattici schifosi perché mi è da lavoro la perizia di andargli a cercare insomma mi sono rovinata mezza qualche giorno fa e poi mi è sbucata fuori tutta un'orticaria tempestosa che ho appena detto che quest'anno l'allergia sta buona da quando ho cambiato regime alimentare anche le orticarie da pollini si sono mitigate non ho detto scomparse del tutto mitigate assai soprattutto anche se mi si gonfia un po' il nasetto respiro bene non mi viene l'arinita allergica per adesso ma infatti davo colpa a tutti i pollini e a tutte le fioriture poi mi fa ma hai pulito sarà stata l'ortica e ho detto gara zon perché per tutta la notte mi sono proprio ho sentito le mani un fuoco e questo fuoco si è diffuso per tutto il corpo e ancora ho da smaltire infatti sto attenta anche con quello che mangio in modo che niente vada a sollecitare e va bene no va male perché c'è un bollo sull'orecchio ho delle non sono neanche dei ponfi sono delle cose brutte che prudono antistaminica go go va bene insomma comunque ho scovato questa lana e mi dispiace mannaggia è una gentile di Puglia che giorni ne ho mandata una meravigliosa un agnellino meraviglioso un filato gonfio è stato lavorato con il 6 gonfio setoso meraviglioso naturale non tinto peccato che ne hai presi solo una matassona perché hai presi vari assaggi sapete che sono quella che assaggia di questa bellissima ne ho prese due matasse pensavo di farci dei calzini invece no le spedisco per la copertina e questo filato verrà verrà abbinato a un sottilissimo lamora che ho in rocca naturale non tinta anche quello era un prototipo e poi ho dato alla nonna delle opzioni per le rifiniture ma gli ha scovato dei punti per mettere risalto questo filato lavorarlo con i ferri un po' più grosso e fare in modo che prenda rilievo nonostante le dimensioni ridotte e quindi ve li metto perché c'è anche questo questo canale youtube che mi piace dove vengono proposte punti e vi metto anche il link per il tutorial della pecora così se lucas forza passa si vede la pecora invece di comprare solo da tiger come faccio io che ce li ho ce ne sono di tanti colori le pecore di tiger ma anche altre pecore ce ne avevo due grandi bellissime per la mia bottega che sono andate distrutte erano belle perché erano in cartapesta erano diversi c'era l'agnellino seduto per l'altra pecora vicino bellissime di lana bellissime che poi mia figlia me ne ha fotografate due a Roma in un laboratorio chiuso di falegnameria e niente non siamo riuscite più andare a vedere io le pecore le amo quelle avevano un bello bellissimo quelle che avevo me le ero proprio regalate a Raca di Papa le avevo prese durante un evento insomma io amo le pecore e ho le pecore di tiger sparse per casa però e avevo fatto un tappeto la pecora tutta pom pom sulla stuoia col musetto le zampette in maglia che avevo copiato da un Marie Claire e me lo chiese una mia amica della bottega per la cameretta del figlio il figlio è un atleta adesso questo questo nuota il papà è stato ha fatto parte del dell'equipaggio di soldini io quel bimbo quel bimbo quello scrocchia zeppi piccoletto vent'anni fa che schizzava con l'altra bimbetta più grande di lui e doppio di altezza erano due bimbi divertentissimi in giro lì tra l'albergo del nonno e il ristorante della zia i miei bucci lì da me e io mi sono goduta proprio i bimbetti l'infanzia del posto me ne sono visti crescere le mie bambine sono delle donne mi fa impressione questa cosa allora questo bimbo scrocchia zeppi è diventato una roba e io gli ho fatto il tappeto a pecora per la camera io penso che adesso ho un castagnone di uno sulle spalle da nuotatore bravissimo faccia simpatica come sempre quando capita il castello magari non mi riconosce manco ma io lo vedo da lontano è un'esplice la città è un'esplice